Ritengono che avesse messo in piedi attraverso WhatsApp, il passaparola, una rete di vendita e consegne a domicilio di capi di abbigliamento recanti noti marchi di alta moda verosimilmente contraffatti. Un campano individuato e denunciato dalla Guardia di Finanza di Città di Castello. L'uomo è stato anche segnalato all'Inpsi in quanto risultava aver percepito dal 2019 il reddito di cittadinanza per un abbontare complessivo di oltre 31.000 euro. L'uomo, un commerciante ambulante dell'Interland napoletano, i cui ultimi redditi dichiarati al fisco sono stati individuati nel 2004, è stato sorpreso in strada mentre cedeva ad un cliente un giubbotto. I finanzieri hanno quindi rinvenuto e sequestrato oltre 100 indumenti che per le loro caratteristiche e per le loro modalità di vendita sono stati ritenuti contraffatti. Il commerciante è stato quindi denunciato per introduzione nei territori dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. I successivi approfondimenti investigativi hanno evidenziato come il sistema di acquisti e vendite fosse gestito attraverso WhatsApp. In particolare il commerciante, il cui contatto veniva diffuso tramite passaparola dopo aver ricevuto un cospicuo numero di ordini, arrivava in Umbria dove soggiornava per brevi periodi in affittacamere della provincia di Perugia facendo le consegne direttamente al domicilio dei clienti. La Guardia di Finanza ha inoltre ricostruito il volume d'affari derivante dalla vendita di capi di abbigliamento contraffatti tra il 2021 e il 2022, calcolato in circa 40.000 euro, con il recupero di tassazione. Gli accertamenti hanno infine consentito di identificare 20 clienti dei commercianti, ai quali sarà combinata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 7.000 euro, prevista per chi acquista cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo possono indurre a ritenere che siano violate le norme in materia di origine, provenienza dei prodotti e proprietà industriale.